Dimensione Italia.net, una lunga diretta di tre giorni, siamo live e in direct, Luca Cervasco al microfono, è vero che chiaramente la manifestazione ospita band emergenti, ma anche di livello, è giusto dare spazio alle band che lo meritano. Siamo passati dalla musica da club di questo DJ che abbiamo ospitato prima, il signor Gianfranco Calino, DJ produttore, a una band invece di musica cosiddetta indie, che è una parola che riempie molto la bocca, giusto? Esatto, è una parola che può essere un armato a più taglio, indie vuol dire indipendente, vuol dire quindi insomma autoprodotti, ma è anche comunque una mainstream in qualche modo, quello che facciamo noi. Aspetta, ridimmelo, ridimmelo. Mainstream. Mainstream. Mainstream, ragazzi. Sì, fantastico. Allora al microfono Rose, la cantante, la vocalista, come si voglia, della band Dark Skies. Dark Shines. Dark Shines, che hanno vinto il premio del premio film, tra l'altro con un meccanismo che mi era un po' sfuggito, allora praticamente viene mandato una traccia, quanti mesi prima? Ma semplicemente un mesetto prima. Ok, un mesetto prima i gruppi partecipanti mandano la traccia, una giuria sceglie e loro arrivano qua già consci e consapevoli di avere vinto, giusto? Esattamente. E voi avete vinto? Esatto, fortunatamente, siamo piaciuti alla giuria, ci siamo esibiti sul palco del film venerdì sera, e abbiamo mandato questa traccia a Give Up, che è in classifica MAI, quindi la classifica delle indipendenti, ma anche delle major. Hai un po' da DJ anni 80, te però? Sì. Facevi la DJ? Quando avevo 15 anni, tanti anni fa, sì. È rimasto un po' retaggio. Un pochino, sì. Ok, va bene, si chiamano Dark Shines, abbiamo detto, ok? I Think Magazine. Esattamente. Ok, però non sei sola, chiaramente, diamo velocemente una presentazione alla band. Beata fra gli uomini, no, veramente no, due a due, giustamente. Sì, allora abbiamo al basso Nick, che è qui alla mia destra, per chi ci vede. Basso sullo strumento, tra l'altro, vai Nick, presentati. Sì, ciao a tutti, sono Nick e sono appunto il basso con The Dark Shines, ciao a tutti, insomma. Poi abbiamo la console, perché abbiamo anche delle basi, facciamo una musica comunque molto eclettica, quindi abbiamo basi elettroniche, piuttosto che archi, così, e facciamo partire con Rika. Ciao Rika. Ciao a tutti. Ok, e poi abbiamo quello che viene dall'Uruguay, che è da Montevideo. Lo straniero, l'Oriundo. Lo straniero, tutti hanno uno straniero, che è quello che porta più borsa di tutti, questo va detto. E comunque è quello che dal 2004 ha fondato con me, Dark Shines, quindi noi due siamo appunti fissi. E poi abbiamo avuto diverse formazioni. Marcelo. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie mille per questa opportunità. Figurati. E poi abbiamo Marcelino, Marcelino Piccolo. Marcelino che è il giovane del gruppo. È il giovane, lo stiamo domesticando. Poi abbiamo in realtà il batterista, che questo oggi non è qui con noi, Oberdam. Non è più, cioè... Non è con noi oggi. Ah, ecco, me l'ho spaventato. No, ho detto così, è bruttissimo. Esatto. No, no, ecco noi. Va bene, siete insieme dal 2004, quindi quest'anno... Anzi, avete festeggiato il decennale di carriera. Sì, abbiamo festeggiato il decennale di carriera, producendo questo nuovo album, che è da... Bellissima lei, producendo, è bellissimo, bellissimo. Va bene, dai, aspetta qualche anno, fra quella quarantina d'anni raggiungete i Poo, quindi... Esattamente. Ormai l'età c'è, più o meno, siamo coetani e cauterrani di roba e facchinetti, quindi più o meno. Ok. Allora, voi avete in promozione il secondo album, che si trova, immagino, in forma liquida, giusto? Allora, si trova in Bandcamp, perché l'abbiamo mandato in forma digitale un mese fa. Yes. Quindi fra poco comunque lo ristamperemo, l'abbiamo stampato onestamente per pochi amici, ma a breve insomma lo manderemo su Spotify, iTunes, tutto quello che è comunque la distribuzione digitale di grande... Ora sta uscendo, anzi, quello che stiamo proponendo adesso, il secondo album, che si chiama No Time For Regrets. Esattamente. Conunciato bene? Bravissimo. E quello che suoniamo invece adesso, il singolo, che si chiama? Give Up. Vai, annuncialo te per bene, vai, hai fatto la DJ? Ok, The Dark Shines, Give Up, dell'album No Time For Regrets. Grazie.